Buongiorno, l'esperienza del reparto Covid ci sta arricchendo molto, sia medici che personale infermieristico, operatori di supporto, perché sono pazienti che anche se robusti dal punto di vista clinico diventano molto, molto fragili. In effetti già nei nostri pazienti, che sono pazienti internistici, ricordo che la grande maggioranza dei pazienti Covid in Italia è nelle medicine interne. È chiaro che i più critici sono in rianimazione, e questo ce lo sventaglia sotto il naso tutti i giorni la stampa, le pneumologie, però la grande maggioranza dei pazienti in medicina interna. E quali sono questi pazienti? Sono appunto dei pazienti magari altrimenti robusti, pazienti con un'ipertensione, un'obesità, un diabete, i quali hanno questa malattia, proprio come malattia, come polmonite interstiziale. Ma esiste un gruppo di pazienti che sono fragili per altre patologie, fragili perché hanno un problema psichico, fragili perché sono anziani con varie patologie, e dove il Covid, anche presente come infezione, non costituisce la patologia fondamentale dal punto di vista dell'andamento clinico del paziente. Ma sono pazienti che hanno bisogno di tante tante attenzioni, tutti. Gli uni perché sono psicologicamente diventati fragili, e gli altri perché sono già fragili anche dal punto di vista dell'accudimento. Noi infatti stiamo particolarmente attenti a quelli che possono comunicare con l'esterno, già si arrangiano con i loro telefoni, telefonini, ma a quelli che invece hanno una ridotta capacità cognitiva, che però magari il familiare desidera sentire perché magari hanno fatto un percorso anche di cura in case di riposo, vengono attraverso le malattie infettive, vengono attraverso le pneumologie. Ebbene, noi attraverso dei tablet riusciamo a far vedere questi pazienti e i loro congiunti e questo è un momento di grande giorno. L'altro momento per noi di difficoltà è il momento in cui questi pazienti per le loro patologie pregresse, per le loro comorbidità, vengono ad eccedere, questo capita, non reparto di medicina, covid o non covid. E qui c'è il problema della solitudine. Il familiare ci chiede, mi sono arrivate delle telefonate, ma siete stati vicini, mio papà come è morto, gli avete tenuto la mano? Cioè c'è quell'aspetto umano che penso che noi qui cerchiamo di stare molto attenti soprattutto in un ospedale che ha questa ispirazione come il San Camillo e stare attenti anche a questi momenti fondamentali della nostra vita. In questo cerchiamo di impegnarci con le nostre suore, con la nostra staffa dirigenziale della direzione sanitaria, con il nostro covid manager, con il comitato che è stato costituito di infermieri, operatori, medici e di suore, un comitato di covid per andare incontro al meglio alle esigenze.